Bella Rezzo Gervetti, oggi è un punto, è un campo pesante con la nave, proprio per te che vince con tramite gli episodi. Sì, con tramite gli episodi, gli episodi assolutamente si poteva portare a casa qualcosa di più di un punto, ma sono contento che i miei ragazzi hanno fatto una buona prestazione, in un campo molto difficile, un campo che mi deve un'applicazione, soprattutto una grande gamba, però i ragazzi sono stati bravi, sono stati attenti, abbiamo rischiato poco. Peccato, peccato, non aver pure da casa il punteggio pieno, ma penso che sotto il portillo della prestazione diamo continuità a quello che stiamo facendo. Ecco, domenica, Intervesi è una partita dove si può interrompere la striscia di 6 partite senza di vincere, magari? Assolutamente sì, vogliamo assolutamente cercare di trovare questi tre punti, è il problema di trovare tre punti quando non vengono e possono essere dal punto di vista emotivo, dal punto di vista di voler far troppo e poi magari si vanno a intaccare di equilibrio, quindi ci vuole sempre molto equilibrio, determinazione a come si è messo oggi, poi tutto il resto è di conseguenza. Grazie. Prego. Grazie.